Buonasera a tutti. Ben trovati in questo meraviglioso tempo che trascorreremo insieme questa sera. Come ogni venerdì vogliamo trattare argomenti che riguardano la famiglia perché Dio ha a cuore le famiglie delle persone. Quindi noi vogliamo praticare quello che Dio ama, vogliamo incoraggiare le persone, vogliamo portare una parola di incoraggiamento a tante persone anche se in questo tempo qua in questo territorio del Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto il cuore addolorato per quanto è successo in una famiglia e proprio questa sera vogliamo parlare un po' di questo. Ma prima di iniziare a parlare di questo vogliamo questa sera pregare perché lo Spirito Santo possa parlare alle nostre vite che sono preziose per Dio. Così dovunque tu ti trovi chiudi i tuoi occhi e presentiamoci davanti al Padre. Questa sera vogliamo chiedere la sua benedizione. Caro Padre nel nome di Gesù questa sera ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire per la tua fedeltà, per la tua grazia, per il tuo amore. Caro e dolce Spirito Santo questa sera ti chiediamo la tua unzione sulla nostra vita. Ti chiedo di benedire ogni famiglia, ogni persona che sta ascoltando. Ti chiedo di benedire anche quelle persone che ascolteranno indifferita nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti chiedo Spirito Santo questa sera che la tua benevole, gloriosa, meravigliosa mano sia sulla vita di ogni uomo, Signore sulla vita di ogni donna, su ogni famiglia, su ogni bambino, su ogni matrimonio. Nel nome del Signore Gesù Cristo che la tua pace, Signore, regni in ogni casa. Nel nome di Gesù ti chiediamo tutto questo e ti chiediamo Spirito Santo di benedire questo tempo. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, come vi dicevo questa sera vogliamo aprire con qualcosa di cui stiamo vivendo qua nel territorio, qualcosa di attualità, perché abbiamo avuto nel territorio un dispiacere di quanti non sanno c'è stato un omicidio, un uomo ha ucciso la propria compagna. Tutto questo ci rattrista nel sapere queste notizie perché c'è una continua crescita di femminicidio, di persone che veramente sono allo sbando, persone che realmente sono molto smarrite, stanno per certi versi perdendo l'equilibrio, stanno perdendo i punti di riferimento. noi vogliamo parlare di questo perché vogliamo incoraggiare le persone. Molti di voi sapete di quello che è successo nel Pordenonese, arroverete in piano, questo ci addolora il cuore perché a volte si commettono degli atti dove la persona stessa che commette degli atti criminali non si rende conto per poi un giorno aprire gli occhi e rendersi conto del grande danno che ha fatto. Questa sera vogliamo incoraggiare tutte le persone. Quello che c'è nel mio cuore è di incoraggiare tutte quelle persone che stanno attraversando difficoltà, di incoraggiare le donne, le mogli, le compagne, o incoraggiare anche gli uomini, incoraggiare anche i mariti a non isolarsi, a non restare da soli, a non chiudersi ma avere bensì dei punti di riferimento. Oggi viviamo in un'era dove c'è tanta comunicazione, abbiamo tanti mezzi di comunicazione ma il danno più grande, più grave per l'uomo è che si va ritrovando sempre più solo. Malgrado ci siano tanti mezzi di comunicazione c'è sempre molta chiusura. Io ti voglio incoraggiare questa sera se sei una donna o se sei una moglie o se sei una compagna o se sei un uomo, se sei un marito, se sei un compagno a non chiuderti, a non vivere i tuoi drammi da solo o da sola ma bensì a trovare delle persone con cui potrai parlare, con cui potrai avere uno sfogo, potrai raccontare le tue frustrazioni, le tue paure, le tue angosce o forse le violenze che stai vivendo come moglie, come donna o forse anche come marito, come uomo, stai vivendo delle violenze psicologiche o violenze fisiche. Non chiuderti per favore perché la chiusura è uno dei drammi più brutti dell'uomo perché quando una persona si chiude non parla con nessuno, non racconta le sue paure, non racconta le sue insicurezze, non racconta quello che gli passa per la testa. questo crea un grave danno. Così io questa sera voglio incoraggiare, per favore se poi potete condividere questo video, ma non per fare pubblicità a me, poco mi importa o per meglio dire niente mi importa della pubblicità, ma desidero incoraggiare tutte quelle persone che stanno dentro le case attraversando momenti di difficoltà, che stanno subendo pressioni, violenze psicologiche, violenze fisiche, a non chiudersi, ma oggi ci sono tanti centri, ci sono centri di ascolto, ci sono delle associazioni che si prendono cura appositamente di persone che vivono violenze di vario genere, quindi per favore non chiuderti, non isolarti, non permettere a quello che noi chiamiamo al diavolo di lavorare nella tua mente, di metterti pensieri brutti continuamente, di fare prigioniera la tua mente e poi di conseguenza il diavolo stesso spingerti a commettere degli atti criminali. Per favore non chiuderti, se ti stanno passando pensieri per la mente brutti, perché forse stai attraversando un momento di difficoltà con tua moglie, con tuo marito, con la tua compagna, col tuo compagno, col tuo fidanzato, con la tua fidanzata o con una ragazza che ti ha lasciato, con un ragazzo che ti ha lasciato, il diavolo sta cercando di mettere pensieri brutti nella tua mente contro l'altra persona o contro te stesso, non permettere che questi pensieri diabolici si annidano nella tua mente, ma bensì chiedi aiuto alle istituzioni, chiedi aiuto alle forze dell'ordine, ci sono degli uomini, delle donne che si potranno prendere cura di te, che ti potranno aiutare, ti potranno sostenere, ti potranno ascoltare e non ti potranno giudicare. Ti parlo per mia esperienza personale, io in questo meraviglioso territorio ho incontrato delle persone in autorità che per me sono una grazia di Dio, sono un favore del Signore perché mi hanno insegnato tante cose, mi stanno insegnando tante cose, mi stanno aiutando a poter aiutare altri che si trovano in difficoltà o che si sono trovati in difficoltà, quindi io ti voglio incoraggiare non isolarti perché l'isolamento non va bene. Di cosa voglio parlarti questa sera? Di quello che è successo qua in questo territorio? Un uomo è andato di matto, ha ucciso la propria compagna, due persone giovani, una è morta, lui ovviamente adesso non se ne rende conto, ma credo che se ne renderà conto tra qualche giorno dell'atto criminale che ha fatto. Io credo che tra qualche giorno quest'uomo si pentirà del grave danno che ha fatto a se stesso, che ha fatto alla compagna, che ha fatto ai figli, che ha fatto alla famiglia. Allora noi non possiamo tacere davanti a queste situazioni e desideriamo che questi atti non si commettano più, desideriamo che nessuno possa commettere più atti del genere, ma che le persone possano avere il coraggio, le donne, le mogli che stanno attraversando pressioni psicologiche o che sono maltrattate. Non abbiate paura di denunciare questi atti perché proteggerete la vostra vita, proteggerete anche la vita di vostro marito, del vostro compagno o del vostro fidanzato. E quindi cercate aiuto, non tenete per voi stessi questi abusi che state attraversando, che state subendo, non vi chiudete in voi stessi, non abbiate paura. Ci sono le forze dell'ordine che non vi punteranno il dito, ma che vi proteggeranno. Ci sono delle associazioni di categoria che si prenderanno cura della vostra vita, si prenderanno cura del tuo rapporto con il tuo compagno, con tuo marito oppure con tua moglie. Ma ti prego per favore, la mia supplicazione questa sera è di non chiuderti pensando di essere da solo o da sola. Ci sono delle persone che ti vogliono bene, ci sono delle persone che ti amano e che ti possono aiutare. E realmente io questa sera, quello che c'è nel mio cuore, questo grido santo che c'è nel mio cuore, per favore, lo ripeto ancora una volta se stai attraversando momenti di difficoltà, pressioni, non chiuderti in te stesso, ma parlane con le autorità preposte, parlano con le persone che ti possano aiutare, ti possano sostenere perché quando tu parli liberi te stesso o te stessa, ma libererai anche tuo marito o tua moglie o libererai il tuo fidanzato o la tua fidanzata, quel che sia. Quindi per favore non chiuderti perché c'è un numero sempre crescente di violenze domestiche, sono cresciuti i numeri di violenza proprio in questo tempo di quarantena perché le coppie di marito e moglie, di fidanzato, di persone che convivono, stanno scoppiando e quindi sono in crisi perché si ritrovano a vivere giornalmente sotto lo stesso tetto, tante ore che prima non erano abituati a vivere sotto lo stesso tetto e quindi cosa fanno? Entrano in crisi. E io ti voglio incoraggiare questa sera perché tu possa fare delle giuste scelte, per meglio dire possa fare delle sante scelte sia per te che anche per il tuo compagno e anche per la vita dei tuoi bambini, per la vita dei tuoi figli ma anche per la vita della società perché quando si commettono atti criminali altresì si sta pubblicizzando e si incoraggiano altri a commettere atti criminali. Noi vogliamo preservare tutto questo, vogliamo incoraggiare le persone a non commettere atti criminali. C'è la possibilità in tutto. Ci sono persone che ti amano, persone che ti vogliono bene, persone che si vogliono prendere cura di te. Non tutti sono contro di te, non tutti gli uomini, non tutte le persone sono contro di te ma sappi una cosa, ci sono delle persone che ti vogliono bene e che si vogliono prendere cura di te. Quindi non isolarti, non chiuderti perché ne abbiamo visto anche in questo territorio del Friuli Venezia Giulia un crescendo numero e queste cose ci addolorano, c'è la possibilità. La Bibbia dice in Geremia capitolo 17 versetto 9, noi ripeto tutto quello che facciamo qua in questo tempo lo facciamo con un solido fondamento che è la parola di Dio e la Bibbia dice proprio nel libro di Geremia al capitolo 17 versetto 9, dice il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, chi lo può conoscere? Così la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malato, tutti gli uomini hanno un cuore ferito, hanno un cuore malato. Dice ma chi lo può conoscere? In effetti chi può conoscere il nostro cuore? Tante volte neanche noi stessi conosciamo il nostro cuore, tante volte la moglie non conosce cosa il marito sta meditando o il marito non conosce cosa la moglie sta meditando, forse un marito sta meditando di fare del male alla moglie o di tradirla o di lasciarla e così la moglie tante volte sta meditando di fare del male al marito o di lasciarlo o di tradirlo perché i cuori degli uomini sono malati e realmente con tutto quello che sta accadendo il cuore degli uomini si ammala sempre di più e il cuore dell'uomo è ingannevole, siamo ingannati tante volte noi stessi e la Bibbia dice chi conosce il nostro cuore? C'è una persona soltanto che conosce il nostro cuore e quella persona è Gesù, è lo Spirito Santo e così io ti voglio incoraggiare perché tu, ogni uomo, tu ed io abbiamo bisogno di essere curati costantemente e l'unica persona che può curare il nostro cuore è Gesù per questo è importante noi vogliamo continuare ad affermare, a incoraggiare che ogni persona in questo tempo che sta per scadere il tempo di quando Gesù stesso tornerà possa fare una scelta in questo tempo possa tirarsi fuori da questa condizione di stress, da questa condizione di solitudine, da questa condizione di terrore, di paura perché nel momento che Gesù entra a far parte della vita di una persona lui toglie l'insicurezza, toglie i traumi, toglie le paure, toglie le ferite, toglie la solitudine e lui viene a ristorare, viene a guarire il tuo cuore la Bibbia dice che egli toglierà il cuore di pietra e metterà un cuore di carne per questo è importante che ogni uomo, ogni donna, ogni marito, ogni moglie, ogni figlio possa fare in questo tempo delle sante scelte, scelte in accordo alla parola di Dio e quindi è importante che tu ed io possiamo fare delle sante scelte in questo tempo possiamo realmente tenerci aggrappati a Gesù e ascolta, non so se tu hai sentito mai parlare di Gesù ma io ti voglio dire che Gesù non lo trovi in una religione Gesù è una persona vivente, nello spirito e lui vuole entrare a fare parte della tua vita vuole entrare nel tuo cuore vuole entrare a far parte della tua famiglia, del tuo matrimonio vuole prendersi cura della tua mente, vuole prendersi cura del tuo corpo vuole prendersi cura della tua relazione vuole prendersi cura della tua famiglia, della tua casa, dei tuoi figli e io questa sera ti voglio incoraggiare a permettere a Gesù di entrare nella tua vita di entrare nel tuo matrimonio, di entrare nella tua famiglia perché egli verrà a ristorare il tuo cuore verrà anche a ristorare il tuo matrimonio e la tua famiglia un uomo, quando parlo di uomo intendo anche una donna senza Gesù oggi non andrà in nessun posto andrà sempre di male in peggio andrà sempre di più alla deriva andrà sempre di più alla rovina ma nel momento in cui ogni persona fa la scelta di ricevere Cristo Gesù nella propria vita e di dire Gesù io ho bisogno di te ho bisogno che tu vieni a vivere nella mia vita ho bisogno che Gesù tu incontri la mia vita ho bisogno che il mio cuore sia resa a te io ti voglio incoraggiare che Gesù entrerà nella tua vita entrerà nella tua casa entrerà nel tuo cuore lui cambierà il tuo cuore cambierà la tua mente cambierà i tuoi pensieri cambierà il tuo matrimonio cambierà la tua famiglia perché Dio ama la tua famiglia più di quanto tu la possa amare e se tu stai attraversando un momento di difficoltà e forse stai prendendo una decisione basta con mio marito non voglio avere niente a che fare o con mia moglie non voglio avere niente a che fare non buttare tanti anni di relazioni così lo spazzi via, lo butti via in un attimo perché hai sofferto perché forse non ti senti capito da tua moglie perché forse non ti senti capita da tua moglie perché forse stai vivendo delle frustrazioni perché tua moglie non ti ha capito tuo marito non ti ha capito e vuoi bruciare tutto vuoi bruciare anni che hai speso con tua moglie con tuo marito ma vuoi bruciare anche la vita dei tuoi figli vuoi rovinare anche la vita dei tuoi figli non farlo per favore c'è la possibilità per restaurare il tuo matrimonio c'è la possibilità per restaurare la tua relazione con il tuo conige c'è la possibilità per poter salvare la tua famiglia questa salvezza può avvenire attraverso una decisione di coinvolgere Gesù nella tua casa nel tuo matrimonio e ti assicuro che Lui si prenderà cura del tuo matrimonio Lui guarirà il tuo cuore Lui guarirà il cuore del tuo conige i vostri cuori saranno guariti i vostri cuori saranno sanati le vostre ferite saranno curate con la presenza meravigliosa dello Spirito Santo e vi rimetterà di nuovo insieme Dio ama la tua vita Dio ama il tuo matrimonio Dio ama la tua famiglia più di quanto tu la possa amare Dio ama i tuoi figli e forse tu in questo momento sei annebbiato ti sei dimenticato dei tuoi figli ti sei dimenticato dei tuoi bambini ma non dimenticarti dei tuoi bambini perché i tuoi bambini hanno bisogno di te che sei papà e di te che sei mamma i figli hanno bisogno del papà e della mamma che stanno insieme e che i bambini possano vivere sotto l'atmosfera sotto la copertura sotto la protezione di entrambi i genitori e quindi è importante che prima di prendere delle scelte drastiche non permettere al diavolo di influenzare la tua vita ma tu possa forse non credi nel diavolo io ti dico che il diavolo è molto astuto e lui è presente lui si muove lui è reale più delle cose materiali che noi possiamo vedere e possiamo toccare lui ha la capacità di influenzare la vita delle persone la mente delle persone e tanti crimini che oggi si commettono si commettono perché tante persone sono state influenzate dal diavolo per distruggere la vita delle persone per distruggere la vita dei bambini per distruggere il cuore dei familiari per questo noi vogliamo alzare la guardia per questo noi vogliamo dedicare questo tempo incoraggiare parlare alle persone che di non dare ascolta a pensieri negativi di non dare ascolta a pensieri diabolici che tante volte si annidano nella mente e ti fanno credere che quella è la scelta giusta che tu devi fare la scelta giusta per un uomo è quello di aprire il cuore a Gesù la scelta giusta di un uomo che sta avendo pensieri negativi è avere il coraggio dico un uomo dico anche una donna avere il coraggio di chiedere aiuto e dire sai mi stanno passando questi pensieri nella mente di andare di cercare un amico di andare da un'associazione ci sono delle associazioni degli uomini delle donne che si possano ti possano incoraggiare ti possano ascoltare si possano prendere cura di te e ti dico ancora una cosa ci sono le istituzioni ci sono donne uomini tra le forze dell'ordine veramente che hanno un cuore che ti amano e che ti possano proteggere che ti possano ascoltare che ti possano portare nella giusta direzione nella giusta posizione così io ti voglio incoraggiare questa sera se ti stanno passando pensieri brutti per la tua mente non permettere che questi pensieri brutti facciano radice nella tua mente nella tua vita a far sì da portarti a commettere degli errori dei danni che saranno irreparabili ma bensì abbi il coraggio di denunciare o abbi il coraggio di chiedere aiuto ripeto se ti stanno passando pensieri brutti per la tua mente tutti possono passare pensieri brutti anche a me possono passare pensieri brutti per la mente ma una cosa è passare una cosa è fermarsi una cosa che passa è una cosa che mettono radici questi pensieri ma dobbiamo avere il coraggio se passano pensieri brutti di autodenunciarci e di chiedere aiuto alle persone preposte che realmente ci possano aiutare a migliorare la nostra qualità di vita piuttosto che indurci o spingerci a commettere violenza o altri atti che ti porteranno comunque ad un problema quindi io questa sera ti voglio incoraggiare che ad andare avanti io ti voglio incoraggiare questa sera non mollare non perdere la presa io ti voglio incoraggiare questa sera perché tu possa realmente questa sera fare delle scelte sante delle scelte giuste lasciati incoraggiare posso essere anche ripetitivo ma te lo ripeterò fin tanto che tu non prenda delle decisioni e se sei una donna forse stai accendendo adesso stai aprendo adesso questo video se sei una donna che stai subendo delle violenze non aver paura a denunciare salverai te ma salverai anche il tuo marito salverai anche il tuo figlio salverai il tuo compagno salverai anche la vita dei tuoi bambini ma non aver paura di denunciare quanto ti sta accadendo perché sarà protezione per te ma sarà protezione per tante altre persone la famiglia è qualcosa di molto ma molto importante c'è una parte della scrittura che dice la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza così questo è un proverbio scritto da Salomone Salomone era un uomo di grande sapienza e dice la casa si edifica con la sapienza il matrimonio si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza quindi c'è bisogno di edificare case c'è bisogno scusate prima c'è bisogno di edificare la propria vita c'è bisogno di edificare un matrimonio c'è bisogno di edificare una casa ma si edifica un matrimonio una casa con la sapienza e la sapienza è l'abilità di mettere in pratica la conoscenza. Ma oggi tante conoscenze non ci sono. Si parla molto poco nella famiglia di come condurre una famiglia, di come impiantare una famiglia. Si parla poco di come si stabilisce un rapporto matrimoniale. Oggi i genitori parlano, a parte che comunque diciamo viviamo in un momento di crisi familiare dove i genitori non trasmettono più un esempio ai figli. I genitori non parlano con i figli come si edifica un matrimonio, come ci si sposa, come ci si conosce, come si arriva al matrimonio, come si mette su famiglia. E quindi è importante che noi possiamo incoraggiare i giovani. Noi lo facciamo qua. Al Gospel Center noi ogni sabato per adesso facciamo degli insegnamenti per preparare i giovani e meno giovani al matrimonio. Perché vogliamo parlare dell'importanza del matrimonio, vogliamo parlare dell'importanza della famiglia, il valore che ha la famiglia, il valore che ha il matrimonio, il valore che ha due persone. Un uomo e una donna perché Dio ha fatto il matrimonio, lo ha stabilito tra un uomo e una donna perché si possano completare insieme, perché possano essere fruttiferi, si possano riprodurre, sia riprodurre come figli ma riprodurre anche il proprio carattere, il proprio gene nella vita dei figli. Quindi noi ne parliamo di tutto questo e ne vogliamo parlare. Ogni venerdì noi vogliamo parlare di queste tematiche perché ci teniamo a informare e a formare le persone del valore del matrimonio. Quindi un matrimonio, una casa, si edifica con la sapienza. E poi dice che viene resa stabile perché non c'è bisogno di iniziare. Molti iniziamo il nostro matrimonio ma durante il corso della nostra vita non c'è stabilità. E allora per poter rendere stabile un matrimonio, per poter rendere stabile una famiglia, una casa, c'è bisogno della prudenza. Quindi di essere persone avvedute. Prima di prendere determinate decisioni è bene comunque fermarsi, riflettere, valutare le eventuali conseguenze che ci potranno essere se un marito e una moglie si dividono. E quindi credo che una cosa molto importante per un matrimonio, per un marito e una moglie che devono fare la scelta, che stanno meditando di potersi separare perché pensano che la separazione o il divorzio sia la scelta migliore. Io ti dico che non è la scelta migliore la separazione, non è il divorzio, non è la scelta migliore. La migliore scelta per un marito e una moglie che si trovano in difficoltà in una crisi matrimoniale è chiedere aiuto. Quella si chiama saggezza. E quindi una coppia che sta attraversando momenti di crisi, momenti di difficoltà, non è che la decisione dice ok, siamo in crisi, non ci amiamo più, io non sento più niente per te, tu mi hai fatto questo, non ti prendi cura di me, non mi rispetti, quindi è meglio che ci lasciamo, non provo più niente per te, quando abbiamo rapporti sessuali non provo più niente, non mi attiri più, quindi la migliore scelta è di lasciarci. No, la migliore scelta non è quella di sciogliere un matrimonio, la migliore scelta è quella di chiedere aiuto a persone che ti possono aiutare e che ti possono riportare nella giusta posizione. E quindi una coppia in crisi, un matrimonio in crisi, cosa deve fare? Piuttosto che fare la scelta, ci dividiamo, ci divorziamo, la scelta più sapiente è chiedere aiuto. Che venga da parte del marito o che venga da parte della moglie, da uno dei due o sarebbe meglio ancora che entrambi decidessero bene, chiediamo aiuto, vediamo chi ci può aiutare, vediamo chi ci può sostenere e ci sono uomini di Dio che hanno il timore di Dio, che crediamo nel valore, malgrado tutte le difficoltà, tutti i problemi che possiamo attraversare, tutte le tempeste, crediamo nel valore del matrimonio e ci sono dei uomini, delle donne di Dio che ti possano aiutare, ti possano incoraggiare e ci sono dei corsi che si fanno per incoraggiare il matrimonio, per edificare, per riportare la coppia nuovamente insieme e così con la prudenza, con la saggezza di non fare scelte spinte dall'emotività o scelte spinte dall'arrabbia o scelte spinte dalle situazioni che stiamo vivendo, la migliore cosa è fermarti, riflettere e chiedere aiuto, quella si chiama saggezza e si chiama anche maturità, perché salverai la tua vita, salverai il tuo matrimonio, salverai anche i tuoi figli e saprai dare ai tuoi figli una giusta e saggia testimonianza, perché tutti i matrimoni, compreso me, tutti i matrimoni attraversiamo delle stagioni, attraversiamo dei momenti di difficoltà, momenti di crisi, momenti di cambiamento, passano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i modi di fare, cambia il nostro modo di pensare, cresciamo e cambiamo, ci sono delle stagioni nel matrimonio, ma le stagioni nel matrimonio bisogna affrontarle, non scappare dalla stagione che stai attraversando perché c'è un momento di crisi, la soluzione non è scappare via, ma la soluzione è cercare aiuto e quindi se sei un marito o se sei una moglie piuttosto che scappare dal tuo conige rimani fermo, chiedi aiuto, chiedi aiuto, cerca l'aiuto di Dio ma cerca anche l'aiuto di uomini e donne di Dio che ti possono aiutare. La Bibbia dice nel Salmo 112, c'è una parola molto bella che a me piace tantissimo, dice beato l'uomo che teme il Signore. Questa parola che dice beato l'uomo che teme il Signore dice intanto beato è felice a tal punto che gli altri ti guardano con ammirazione e con invidia, come dire wow guarda com'è benedetto quella persona, guarda che è felice quella persona, dice benedetto, beato l'uomo che teme il Signore. Temere il Signore non significa avere paura di Dio, ma beato l'uomo che teme il Signore significa quell'uomo che va al rispetto dei valori di Dio, quell'uomo che ha rispetto di Dio, quell'uomo che ha rispetto del matrimonio che Dio ha creato, quell'uomo che ha rispetto di Dio che ti ha dato la vita, dice quell'uomo sarà beato a tal punto da essere invidiato. Quindi beato l'uomo, beata la donna che teme il Signore, che ha rispetto del Signore e che trova grande gioia nei suoi comandamenti. la Bibbia definisce che è beato quest'uomo e questa donna che trovano gioia nella parola di Dio, nei suoi comandamenti. Non devi trovare la gioia in quello che fai nelle cose materiali. Sai, tanti uomini, tante donne hanno poggiato il fondamento della propria vita, del proprio matrimonio, della propria famiglia, solo ed esclusivamente sull'emotività. Molti uomini sposano una donna perché ha un bel fisico, perché è bella, perché ha belle forme. Molte donne sposano gli uomini perché ha un bel fisico, perché ha il fisico muscoloso, perché è alto, perché cura il suo corpo. Ma le scelte non si fanno solo ed esclusivamente. Tu non devi sposare una donna o un uomo solo perché ha un bel aspetto, ma devi sposare un uomo o una donna perché ha un bel cuore. E il cuore lo conosce solo Dio. E quindi per conoscere il cuore di un uomo, per conoscere il cuore di una donna, cosa devi fare? Devi andare a Dio. E Dio ti rivelerà il cuore di quella persona. Allora quella sarà la sicurezza, quella sarà una garanzia perché tu possa sposare quella persona. Oppure Dio ti possa dire lascia stare quella persona. E quando avrai timore dei comandamenti del Signore, quando avrai rispetto di quello che dice la parola di Dio, tu sarai beato, sarai felice. E poi c'è una conseguenza di quest'uomo che teme il Signore e quest'uomo che trova grande gioia nei comandamenti del Signore. Ascolta queste promesse che ti leggo. Dice la sua progenie sarà potente sulla terra, la posterità degli uomini retti sarà benedetta. Questa è una conseguenza dell'uomo che teme il Signore, che ha il rispetto del Signore e nella parola di Dio trova grande gioia. Significa wow, c'ho la parola di Dio, c'è la Bibbia, c'ho i comandamenti. E' come dire, la parola di Dio è un manuale di istruzione per il tuo matrimonio, per la tua relazione. E la parola di Dio ti saprà dare tutte le informazioni, le indicazioni che ti servono per ripristinare il tuo matrimonio, per guarire il tuo matrimonio, per risanare il tuo matrimonio, per fortificare il tuo matrimonio. Tutto questo lo trovi nella parola di Dio, nella Bibbia, quella che comunemente chiamiamo Bibbia, trovi tutte le indicazioni che favoriscono, migliorano, potenziano, rafforzano, edificano, guariscono il tuo matrimonio, la tua relazione con tuo marito e con tua moglie. Dice la progenie tua sarà potente sulla terra, la posterità degli uomini retti. Gli uomini retti sono quelle persone che dicono, ok, io ho fatto la scelta di camminare in modo integro, io non prendo la decisione di tradire mia moglie, andare con un'altra donna, ma io affronto mia moglie, io affronto insieme con mia moglie, io cerco aiuto, quella è una persona retta. Ho una donna che fa questa scelta, io non tradisco mio marito, ma io cerco aiuto perché voglio salvare il mio matrimonio. Quella è una persona retta, quella è una persona giusta, quella è una persona che realmente sa affrontare la realtà di dire il mio matrimonio in crisi, la mia relazione con mio marito o con mia moglie in crisi, io non voglio scendere nel compromesso, non voglio peccare, non voglio rompere questa relazione meravigliosa, ma cercherò aiuto. Poi dice nella sua casa c'è abbondanza e ricchezza e la sua giustizia dura per sempre. Poi dice la luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti, per l'uomo misericordioso, compassionevole e giusto. Cosa fa tutto questo? Quando un uomo è retto, quando un uomo teme l'eterno e trova grande gioia nei suoi comandamenti, ci sarà una grande benedizione. E poi dice sarà felice l'uomo, cosa dice la parola di Dio? Sarà felice l'uomo che trova grande gioia nei suoi comandamenti, dice sarà felice l'uomo che usa misericordia, l'uomo usa misericordia verso tua moglie e anche tua moglie abbia il rispetto per tuo marito. Dice sarà felice l'uomo che usa misericordia e quindi cosa deve fare un marito? La Bibbia comanda in prima Pietro, dice mariti amate le vostre moglie, onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita. La Bibbia dice mariti amate le vostre moglie, mariti trattate con rispetto dovuto alla donna, date il rispetto dovuto alla donna, dice sarà felice l'uomo che usa misericordia. A volte è vero, avere a che fare con le donne, con le moglie è difficile, è difficile, è pesante, ma sono diverse da noi, ma se parliamo con la donna, gli uomini sono difficili da comprendere, da stare accanto a loro, perché Dio ci ha fatti diversi l'uno dall'altro? Ma è proprio nella diversità che possiamo trovare la complicità, è proprio nella diversità che ci possiamo trovare insieme e possiamo costruire insieme, perché quello che ha la donna manca all'uomo e quello che ha l'uomo manca alla donna, ma i due possono trovarsi insieme, possano diventare una grande forza insieme. Non lo trovi con un'altra donna lasciando tua moglie andando con un'altra donna o lasciando tuo marito e andando con un altro uomo, lo troverai con tuo marito. La soluzione non è il tradimento, la soluzione non è la separazione, la soluzione non è il divorzio, la soluzione per la tua casa, per la tua famiglia è Gesù. E io ti voglio incoraggiare a prendere la parola di Dio, a trovare l'istruzione che Dio ti dà attraverso la sua parola e trova anche l'incoraggiamento sulla vita di Gesù. Voglio andare avanti e voglio chiudere, stiamo andando avanti nel tempo. E poi dice una cosa, te lo leggo per esteso, così lo comprendi meglio. Sarà felice l'uomo che usa misericordia e dà in prestito e dirige i suoi affari con giustizia, perché non sarà mai smosso. Il giusto, la Bibbia dice, sarà ricordato per sempre. Wow, che bello, dice l'uomo che usa misericordia verso la moglie, l'uomo che cammina in mondo integro, l'uomo che cammina col timore del Signore, l'uomo che trova la gioia nella parola di Dio, dice non sarà mai smosso, sarà fermo. E poi dice il giusto sarà ricordato per sempre. E poi per chiudere dice egli, cioè l'uomo, non temerà cattive notizie, il suo cuore è fermo, fiducioso nel Signore. Così io ti voglio lasciare con questa parola, che tu stai ascoltando sia un uomo o sia una donna, la Bibbia dice sarà felice l'uomo che usa misericordia, sarà felice la donna che usa misericordia verso suo marito. Sarà felice la donna che usa misericordia verso il marito che ha sbagliato e che lo perdona e che fa di tutto per recuperare il matrimonio. Dice, dà in prestito e dirige i suoi affari con giustizia, dice questa donna non sarà mai smossa. Il giusto sarà ricordato per sempre e anche la donna stessa. Dice questa donna non teme cattive notizie, il suo cuore è fermo, fiducioso nel Signore. Così io ti voglio incoraggiare questa sera a mettere radici, a mettere radici nella parola di Dio. La Bibbia dice che se tu metti radici nella parola di Dio tu non temi cattive notizie, non stai come dire, mi sta arrivando una cattiva notizia, chissà cosa mi succederà, chissà cosa accadrà. Tu non temerai, non avrai paura di tutto questo, ma tu, il tuo cuore sarà reso fermo, sarà reso stabile nel Signore perché Dio si prenderà cura di te, si prenderà cura del tuo cuore, si prenderà cura del tuo matrimonio, si prenderà cura della tua casa, si prenderà cura dei tuoi figli, si prenderà cura della tua mente. Così io ti voglio incoraggiare questa sera, qualunque sia la tua decisione, rimani fermo, aspetta, cerca aiuto, non isolarti, non permettere a brutti pensieri di fare radici nella tua mente, nel tuo cuore, ma cerca aiuto, non vergognarti, non pensare che gli altri ti possano giudicare per i tuoi pensieri, non pensare che gli altri ti puntano il dito e possano dirti di te, oh che sei strano, che sei strana, ma tu pensi queste cose, cerca aiuto e sappi una cosa, che attorno a te ci sono delle persone che ti amano, che ti vogliono fare del bene, che ti vogliono proteggere te, vogliono proteggere il tuo matrimonio, vogliono proteggere la tua famiglia, vogliono proteggere la tua reputazione, vogliono proteggere il tuo domani, vogliono proteggere il tuo futuro, vogliono proteggere la tua casa, sappi che attorno a te ci saranno sempre delle persone che ti vogliono bene, non sentirti strano, non sentirti isolato, non sentirti solo, ma cerca aiuto, non aiuta attraverso i social, ma cerca aiuto chiamando, anche noi abbiamo qua attivato dei numeri di telefono per poter ascoltare le persone, per poter parlare alle persone e lo stiamo facendo in modo legale, abbiamo mandato la comunicazione perché oltre a ricevere le chiamate stiamo facendo anche delle chiamate, grazie a Dio ci sono delle persone che stanno chiamando ogni giorno in quei numeri che troviamo nelle pagine bianche per incoraggiare le persone, se ci sono persone anziane, persone giovani, donne, mariti, mogli che si trovano in un momento di difficoltà, persone che sono rinchiusa in casa, noi stiamo chiamando, noi qua dal Gospel Center abbiamo attivato un servizio dove stiamo chiamando le persone per incoraggiarle, per sostenerle, per edificarle e lo stiamo facendo con massima legalità, abbiamo mandato, abbiamo fatto comunicazione alla prefettura, l'abbiamo fatto al Comando Provinciale dei Carabinieri, l'abbiamo fatto, abbiamo mandato la comunicazione anche al Comune, al Sindaco perché vogliamo lavorare con massima legalità e quindi vi chiameremo con alcuni numeri o se volete chiamare, noi pubblicheremo tra poco dei numeri dove voi potete chiamare per chi ha bisogno di sostegno, per chi ha bisogno di parlare, per chi vuole fare una domanda qualsiasi perché forse vuoi conoscere quello che stiamo facendo, in come ti possiamo incoraggiare, ti possiamo aiutare se non hai spesa a casa, ti porteremo la spesa a casa, abbiamo attivato anche un servizio se tu sei in quarantena, se non puoi uscire da casa, abbiamo attivato un servizio per poterti fare delle commissioni, andarti a fare la spesa e portartela o andare a prendere i farmaci e portarteli o fare un servizio, tutto lo faremo con la massima legalità, le persone che verranno, le persone che faranno queste commissioni saranno riconosciute, avranno un nostro cartellino, saranno identificate, gli daremo il nome prima che arrivano le persone che sono, quindi lo faremo con massima legalità, il signor prefetto ne ha avuto comunicazione, il questore ne ha avuto comunicazione, il colonnello della caserma dei carabinieri di Udile ne ha avuto comunicazione, il sindaco di dove noi siamo, dove abbiamo la nostra sede ha avuto comunicazione, il comandante di stazione di dove noi siamo di Campoformido ne ha avuto comunicazione per dire stiamo facendo tutto questo con massima legalità per aiutare le persone, per aiutare le famiglie e quindi se ti trovi in un qualsiasi bisogno noi siamo a disposizione con quello che possiamo vogliamo aiutarti, vogliamo sostenerti perché Dio ama le famiglie e noi vogliamo adoperarci per il bene delle famiglie, così se ti trovi in un momento di bisogno, forse ti trovi in un momento di sconforto, hai bisogno di parlare, hai bisogno di una parola di incoraggiamento, siamo disponibili per ascoltarti, per sostenerti, per farti compagnia, forse hai bisogno soltanto di compagnia, forse sei solo a casa o sei solo a casa, non parli con nessuno, non hai amici, non hai amiche, chiamaci, siamo ben lieti in qualsiasi ora del giorno di poterti rispondere, di poterti sostenere. Adesso prima che chiudiamo questa diretta vogliamo pregare perché noi desideriamo benedire la vita di ogni persona, desideriamo benedire le famiglie, desideriamo benedire la tua vita, così dovunque ti trovi se puoi chiudere gli occhi voglio pregare per te che lo Spirito Santo questa sera possa benedire la tua vita. Ti chiedo caro Padre nel nome di Gesù questa sera, Signore io ti prego per queste persone che stanno guardando questa diretta, ti chiedo Spirito Santo che la tua benevole mano sia stesa su tutte queste persone che stanno guardando questa diretta, tutte le persone che guarderanno Signore indifferita, ti chiedo Padre la tua benedizione su ogni famiglia, su ogni matrimonio, ti chiedo Spirito Santo questa sera libera la mente di tutte quelle persone che sono Signore intrappolate in pensieri diabolici, nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiedo Spirito Santo che la tua potente mano possa raggiungere la vita di queste persone, di tutte quelle persone che stanno pensando Signore a commettere atti criminale, atti di violenza, nel nome di Gesù ti chiedo di liberare queste persone da queste bugie, da questi inganni Signore che nella loro mente possano passare pensieri di pace, di amore, di tranquillità nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti prego Spirito Santo di rimuovere dalla mente di tutti coloro che stanno pensando di divorziare dal proprio conige, da separarsi dal proprio conige, ti chiedo nel nome di Gesù Spirito Santo che tu togli questi pensieri Signore e che questi uomini, queste donne, questi mariti, queste donne possano cercare aiuto Signore e possano essere liberati da questa trappola, nel nome di Gesù Padre ti chiedo tutto questo, ti chiedo Signore questa sera, stendi la tua mano Signore su ogni casa, vogliamo benedire ogni famiglia su questo territorio del Friuli Venezia Giulia, reclamiamo la tua prosperità in ogni matrimonio, reclamiamo Signore questa sera in accordo alla tua parola, la tua pace Signore su ogni matrimonio, su ogni famiglia, ti chiedo di acquietare Signore la tempesta che in questo momento c'è in ogni matrimonio, in ogni famiglia, qua in questo territorio del Friuli Venezia Giulia. Spirito Santo stendi la tua mano, incoraggia, sostieni, te lo chiediamo nel nome potente del Signore Gesù questa sera Signore e ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, voglio benedire ogni persona Signore che si trova sola, Padre tutte quelle persone che stanno soffrendo di solitudine, io ti chiedo nel nome di Gesù, tocca Signore, tocca queste persone che possano avere il coraggio di chiedere aiuto, che possano avere il coraggio di cercare Signore, di cercarsi degli amici, cercarsi delle compagnie Signore, anche attraverso il telefono Padre, io ti prego nel nome di Gesù che spiriti di solitudine lasciano la vita delle persone nel nome di Gesù e che le persone possano trovare la forza di cercare aiuto nel nome del Signore Gesù, ti chiedo tutto questo e ti chiedo questa sera, Spirito Santo, benedici tutti coloro che si adoperano Signore in questa regione, in questa nazione per curare le persone, tutti coloro Signore che sono in prima linea, medici, infermieri, Signore operatori della sanità, coloro che fanno le pulizie, benedici le forze dell'ordine Signore per tutte le scelte che devono prendere giornalmente, Signore benedici tutte le autorità in questo territorio per le scelte e le decisioni che devono fare, Padre io ti chiedo che la tua benedizione sia su di loro, sulle loro case, sulle loro famiglie e che Signore anche le loro vite siano di testimonianza per i cittadini nel nome del Signore Gesù Cristo, vogliamo reclamare benedizione su benedizione su questo territorio, su ogni persona, su ogni famiglia nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Voglio lasciarti con questa parola, ricordati qualunque sia il tuo problema Gesù alla soluzione e quindi non pensare che tutto sia finito, la migliore stagione per la tua vita forse è davanti alla porta di casa tua e quindi apri la porta e permetti che questa meravigliosa stagione, lodevole, meravigliosa, possa entrare nella tua casa, possa entrare nel tuo cuore. Ci vediamo con questo tema il prossimo venerdì sempre alle ore 18, Dio ti benedica e che possiamo ascoltare, ci possano pervenire buone e belle notizie di matrimoni che sono state riconciliate, persone che sono state liberate dalla paura dell'angoscia. Dio ti benedica, ci vediamo prossimo venerdì ore 18. Ciao, a dopo.